Gli ha detto Rea non puoi aderare qua Gancatemi me, gancatemi Che ha scavallato quello che balle o che ha scavallato via? C***o bitch Fight ali c***o, madonna Ma che fight? Io ero già nel dungeon Sei ritardato, porco dio, veramente Eh, non me la devi dire che scendi, eh Di solito non scende mai nessuno a proteggere Esco fuori E li fightiamo, ecco, si moriamo singolarmente Tutte e due Ma si raga, non potete sopravvivere, questo è tutto sui side squad Aia Sto per essere kickato dal party Allora LOL Anche perché